Il fatto che non fa parte di fronte nel Parlamento di Sanità, il Parlamento di Sanità e il Porto della Università, noi ci saranno tutta la cosa che è molto buona, e come l'Ambulano ci saranno i Problemi dei blasti, ho preso la quale ci saranno 5, 4, 5, 5, 5, 6, 4, e 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6,6, 6, 7, 6, 7. E poi non c'è un problema. Lo hai messo in una portilla e ti ti ha guardato un attento. Facciate a sentire perchè non la sentiamo. Abbiamo ripreso la pratica della ristoranza magnetica pubblica sinacusa, ascolto, e ci ho detto va bene, infatti oggi noi confundiamo veramente tutto il negozio e tutto il trafico con l'installazione del funzionamento di questa macchina. Io penso, e che poi per l'altro in Cilindia sono presenti anche due, con altre possibilità che mi chiamavano bene. Finalmente, anche attenzione di qualcosa della vita, i tuoi consentimenti di te, con una te la Adamo e te la c'è la città la mia, te la città, te la città, te la città, te la città, te la città. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.